Dallo scorso settembre la ascoltiamo su Radio 24 con il suo programma Amici e Nemici e con noi un delle firme più importanti del giornalismo italiano, Lucia Annunziata. Bentornata, grazie. Che bello il tuo rientro in televisione, qui mi fa molto piacere, sono molto onorato. Rientro, sopra. Beh, bello vederti in televisione, mancavi dall'ultima puntata di Mezz'ora in più, era il 25 giugno. Tanto tempo. Sono stata brava, mi sono messa a riposo. Ti sei messa a riposo? Sì. Che è anche una cosa saggia, insomma. Esatto. Uno capisce quando è il momento prima che ci venga in mente ad altri. Senti, ti è mancata la televisione? No, dico, ti è mancata la televisione? Mi è mancata. E come lavoro no, perché a settembre ho cominciato, tra l'altro tu sei stato ospite. Ospite a tua trasmissione. Il grande Fazio è venuto a una trasmissione appena nata su Radio 24, che si chiama Amici e nemici. Era un po', quando gli ho dato il nome, forse non era ancora tanto a riposo, perché l'ho chiamato nemici, amici e nemici. E quindi, insomma, trasmissione impegnativa, facciamo un'ora e mezza il sabato mattina e la domenica un podcast. Ma, insomma, ma... Poi c'ho la stampa, insomma... Ma, insomma, detto proprio come fa detto, ma non sei pentita di aver lasciato la tua trasmissione? Guarda, veramente no. Cioè, nel senso, mi dispiace, poi tu lo sai, che ognuno di noi ha rapporti molto forti con il proprio prodotto, no? Con le aziende, eccetera, eccetera. Però credo che alla fine fosse una scelta giusta, non mi sono mai pentita. Questa vicenda, però, secondo me... Non una scelta di odio, di cose. No, ma certo, ma... Io credo che quando uno, un giornalista, deve... Facevo il calcolo, ne parlavo con Ferruccio. La Ferruccio De Bortoli che ha dato per entrare. Ci ha spoilerato l'ospite. Ah, sì, vabbè. Pensa che nella mia vita mi sono dimessa 12 volte. Ma sei dimessa 12 volte. 12 volte. E entrando e uscendo anche più volte dallo stesso... Guarda che il 13 porta male, fermati qua. Eh, sì, no, beh, farà il 14esima. Mi dimetto da te. No, no, che ti dimetti. No, però sai cos'è il tema? Se... Insomma, se siamo ancora lontani, diciamo, da un momento, da un paese in cui esistono dei valori condivisi e intangibili, per esempio anche quello di una televisione... Ah, perché stai a fare una domanda complicata. No, pubblica e indipendente, no? Nel senso che è una cosa che, lo sentiamo dire, io da 40 anni, la TV deve essere libera, pubblica, deve essere... Io non risponderò a questa domanda. Non risponderai. No, però ti ho chiesto se siamo lontani, secondo te, o se è solo un modo di dire, insomma. No, io penso che... Io penso un'altra cosa, che i giornalisti sono dei professionisti, no? Cioè, e quindi quando non vanno d'accordo con gli editori, devono dire che non sono d'accordo. È la cosa più importante da fare, no? Cioè, il punto sono gli editori e i giornalisti. Gli editori cambiano, hanno il potere, hanno i soldi, vogliono cambiare, hanno tutti i diritti, no? I giornalisti, se non sono d'accordo, lo dichiarano e se ne vanno. Quindi, secondo io, grandi temi, grandi discussioni sui media non ne faccio. Nel senso che penso a quello che è il mio percorso. Infatti, il tema secondo me interessante, perché ovviamente ci ho pensato tanto, è quando si parla di narrazioni, indipendentemente da nuove o vecchie narrazioni. E chi è che deve fare queste narrazioni? Cioè, se i professionisti, se la politica, se un editore indipendente. È difficile? Beh, guarda che tra editori, ti ripeto, io mi sono dimessa tante volte, quindi peraltro non mi sono mai trovata male nelle dimissioni, insomma. Certo. Nel senso che le ho fatte sempre, non mi è mai successo niente. No, non è mai successo niente di grado. Però voglio dire, questa è un'illusione che tra editore e giornalisti non ci sia, vedi i giornali americani, è la stessa identica cosa. Non c'è posto dove il rapporto tra editore e giornalista non sia frizionante. Assolutamente. Dopodiché c'è un problema di chi sono gli editori, cosa fanno. Io però tendo a dire una cosa. La RAI, ho detto la parola RAI, oddio, ho detto la parola RAI dopo tanto tempo, la RAI ha un editore che, diciamo, il Parlamento, lo Stato, Palazzo Chigi di fatto, e ha il diritto di esercitare come vuole le proprie opzioni. Va bene? È l'editore, così come gli editori ci mettono i soldi, eccetera, eccetera. Sta ai giornalisti decidere se il percorso lo possono fare. Condividere oppure no. Ecco, ma non pure solo condividere, si tratta sempre di compatibilità. Ma noi possiamo parlare di politica, sì. Sì, possiamo parlare di politica. Possibilmente di politica estera, su cui mi sono veramente sbattuta. No, adesso parliamo degli esteri. Infatti, adesso facciamo entrare i tuoi colleghi autorevolissimi, insieme proviamo la discussione a non sprecare questa occasione. Ma quando senti dire in questi... è quasi un adagio. La Presidente Meloni è più avanti rispetto al suo partito. Tu sei d'accordo? Beh, io penso che la Meloni sia una donna ingambissima sul piano politico perché è una cosa molto forte a suo favore. È una grande tattica. Per esempio, è riuscita in questo primo anno a distaccare anche la sua maggioranza e quindi a dare anche questa percezione che lei è... Cioè, è un avversario formidabile la Meloni, no? Cioè, quindi, anche per i suoi. E infatti, secondo me, aggiungo e forse anticipo un discorso che faremo dopo, il rischio che l'opposizione corre è quello di essere cooptata dalla Meloni. Non perché fanno patti, vanno e fanno patti, Fabio, ma perché lei ha degli schemi di lavoro capaci di dettare lei alla fine per tutti, capisci? Certo, dettare lei. Quindi, su molte cose è già successo. Quindi, voglio dire, io ti dico pure che, secondo me, la Meloni durerà tutta la registratura perché è molto facile. Poi, sai, ci sono sempre gli inciampi, insomma. Però sulla carta c'è tutto un calendario di... Un calendario di, diciamo... Di argomenti? No, un calendario di fatto, di voto, perché dopo l'europeo non si vota più, ma anche c'è soprattutto la condizione delle grandi guerre che impedì... Insomma, l'Europa è in grande crisi e ogni governo sta facendo quello che vuole e c'è un liberi tutti in Europa. Queste sono condizioni in cui, voglio dire, questo governo si può consolidare. Guarda, paradossalmente io vedo più problemi dentro la loro maggioranza da risolvere, anche se li risolveranno. Però, insomma, non c'è dubbio che lei su questo... Infatti, secondo me, il problema vero è quello dell'opposizione. È quello di dire quanto vale la mia opposizione, quanto vale la mia opinione, quanto vale in un paese una fetta di... Cioè, una voce del paese. Cioè, perché non si può pensare che l'opposizione e il governo vadano insieme, perché anche nelle democrazie non ci sono più neanche quelle. Pigli agli americani continuano a dire sulla politica estera bisogna essere uniti. Non è più neanche così. Però, voglio dire, anche lì, diciamo, la voce unica sui grandi temi dei tempi, diciamo, i tempi intesi come i tempi storici, sono limitati. Quindi, voglio dire, il problema vero oggi, secondo me, è capire questo paese quanto... quante voci riesce a sentire. Senti, se tu oggi fossi in onda, fossi stata in onda, che cosa avresti trattato? Quale tema avresti voluto trattare? Guarda, diciamo, io sono stessionata in questione della politica estera, io penso che il punto di fondo è dire una cosa che poi dirò anche dopo, che il vero allargamento del conflitto non c'è ancora stato. La cosa che però è successa, c'è stata una definizione di quelli che sono le veri assi della guerra su cui dovremmo aver paura, che è via mare, lo scontro tra Cina e America, via Iran. L'Iran è un posto dove... avrei trattato questo fondamentalmente.